E' stato inaugurato alla presenza del presidente di A2A Giovanni Valotti e dell'amministratore delegato Valerio Camerano il nuovo impianto di recupero plastica di A2A che si trova in Piemonte, a Biella. Un esempio concreto di economia circolare in grado di dividere 13 tipi di plastiche differenti che possono essere riciclate per diventare nuovi oggetti. L'avanzata tecnologia di questa struttura viene effettuata tramite macchinari con vagli scanner ottici e wind shifter e anche in ultima fase tramite la prestazione manuale degli addetti e il controllo qualità. Questo processo permette di trattare 45.000 tonnellate annue di materiale, tonnellate di plastica che, come materia prima-seconda, diventano elementi fondanti del processo di economia circolare. Il polo per il recupero della plastica è stato realizzato con materiali ad altissimo isolamento ed è dotato di un impianto fotovoltaico sul tetto da 300 kW che contribuisce all'alimentazione del sito con 330.000 kW all'anno di energia 100% green. Questo impianto consentirà ad A2A di effettuare 600 milioni di investimenti in 5 anni in impianti per l'economia circolare. L'obiettivo sostenibile di A2A è innovazione e incremento di reti e servizi e decarbonizzazione per la riduzione dei gas clima alteranti, nonché il 99% di rifiuti urbani raccolti e inviati a recupero di materia o energia. Sono previsti altri impianti per il riciclo della plastica ma anche dell'umido in Lombardia. Il fatto dell'economia circolare e della sostenibilità è il pilastro del futuro di A2A e stiamo concretizzando questo futuro nel presente con investimenti importanti. Oggi Valerio Camerano ha illustrato un po' di numeri e noi abbiamo 600 milioni di euro a piano per tutti centrati su impianti di recupero della plastica, del vetro, dell'organico. Questo testimone il fatto che un'azienda come A2A ha un approccio molto responsabile al tema dell'economia circolare. Vorremmo anche un po' levarci la nomea di quelli che, siccome hanno il termo valorizzatore, non sono interessati né a differenziare né a fare impianti di recupero. I fatti stanno dimostrando esattamente il contrario. Tutti i nostri investimenti sono sull'innalzare la differenziazione. Brescia ne ha una testimonianza, siamo passati dal 38% ormai al 70% di raccolta differenziata e soprattutto, una volta differenziato, grazie anche al contributo dei cittadini, i nostri rifiuti vengono davvero recuperati. Quindi la plastica diventa il parco gioco dei bambini, il vetro diventa le bottiglie per il vino, che sia questo il prosecco o che sia meglio il Franciacorta, non importa, ma comunque la materia diventa nuova materia. Quindi vale anche la pena impegnarsi perché poi il risultato è visibile, concreto e aiuta l'ambiente davvero. Noi investiremo 600 milioni all'interno di un piano industriale che ne prevede quasi 3 miliardi di euro. I 600 milioni sono destinati a rafforzare la nostra posizione e l'economia circolare, in particolare in tutta l'attività di recupero della materia e riconsegna della materia alle comunità. Parliamo di carta, di plastica e di organico prevalentemente, dove l'organico fornirà anche l'opportunità di generare del biometano, che poi sarà al servizio di una nuova mobilità elettrica, insieme alla mobilità elettrica che già offriamo nelle nostre città e ai nostri clienti. Siamo arrivati a una percentuale che è quella del 72 e 29. All'interno di Fattacento, la percentuale di raccolta differenziata, abbiamo il recupero di diverse tipologie di materiale. Si parla di forso, si parla di carta, di plastica. La plastica è uno dei valori che possono essere implementati e la presenza qui oggi all'impianto sicuramente va nella direzione di proseguire sul recupero della plastica. Sì, è la direzione dell'economia circolare che ci viene data in maniera molto forte e precisa anche dall'Europa. Quindi bisogna agire sulla riduzione del quantitativo di rifiuti previsti, sulla raccolta differenziata, sulla qualità di quello che si raccoglie con la raccolta differenziata, ma poi anche e soprattutto con la valorizzazione del materiale che viene da questa raccolta di rifiuti, quindi dal rifiuto arrivare a un nuovo prodotto.